La guerra fa solo aumentare il male e la morte, il nuovo appello del Papa davanti ai fedeli in piazza San Pietro per la recita dell'Angelus. Papa Francesco si è riferito così alla visita compiuta ieri al Sacrario Militare di Re di Puglia. Papa Francesco ha poi ricordato che in questa domenica la Chiesa celebra la festa dell'esaltazione della Santa Croce di Gesù. Mentre contempliamo e celebriamo la Santa Croce pensiamo con commozione a tanti dei nostri fratelli e sorelle che sono perseguitati e uccisi a causa della loro fedeltà a Cristo. Per ciò ha detto, li ricordiamo e preghiamo in modo particolare per loro. Dopo l'Angelus il Papa si è riferito al fatto che domani nella Repubblica Centroafricana avrà inizio ufficialmente la missione voluta dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per favorire la pacificazione del Paese e proteggere la popolazione civile che sta soffrendo gravemente le conseguenze del conflitto in corso. Quanto prima la violenza cede il passo al dialogo, ha detto il Papa. Gli opposti schieramenti lasciano da parte gli interessi particolari, si adoperino perché ogni cittadino, a qualsiasi etnia e religione appartenga, possa collaborare per l'edificazione del bene comune.